Pesanti danni nel maltempo a Isernia, ma la struttura che più di tutte ha sofferto le forti folate di vento che si sono abbattute sulla città è stata quella dell'auditorium, mettendo anche a rischio l'incolumità dei passanti. Probabilmente per le raffiche di vento e sicuramente per evidenti carenze tecniche progettuali, alcuni pannelli del soffitto esterno nella parte posteriore dell'auditorium si sono staccati precipitando a terra da un'altezza di circa 6-7 metri. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno in quella zona e non ci sono state conseguenze per le persone che avrebbero potuto essere anche abbastanza gravi. Si tratta infatti di pannelli notevolmente pesanti che sono caduti a terra, forse perché non fissati bene o realizzati con materiale troppo pesante per reggere con quel tipo di sostegno. Così dopo l'intonaco esterno già staccato sin diversi punti, con i pavimenti esterni che dall'anno scorso hanno cominciato a sollevarsi, c'è davvero da chiedersi come e con quali materiali sia stata realizzata una struttura che è 50 milioni e che doveva essere il fiore all'occhiello della città, finanziata nell'ambito delle opere previste per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia e rientrante nel piano straordinario del Governo nazionale. C'è stata anche un'inchiesta della magistratura che però è finita con un nulla di fatto. Insomma, se 50 milioni sono stati spesi con questo risultato c'è davvero da chiedersi come sia stato possibile, senza dimenticare che la struttura è ancora incompleta, con l'ala destra da finire e con la torre scenica che manca del tutto. Ci vorrebbero almeno altri 10 milioni, ma il comune i soldi non li ha, la regione chiaramente si è già defilata e Isernia resta a guardare il suo straordinario colosseo dell'era moderna che cade a pezzi a solo quattro anni dall'inaugurazione.